La siccità sarebbe per finire, le previsioni parlano di piogge che balicano le Alpi, ma le buone notizie finiscono qui. Con il cambiamento climatico gli eventi estremi sono sempre più frequenti a cominciare dalle ondate di calore e dalla prolungata mancanza di pioggia che seccano la terra, rovinano la frutta e la verdura facendo cadere le olive dagli alberi e impoverendo i raccolti. Le ondate di calore si fanno sentire anche negli allevamenti dove gli animali sono in difficoltà, oltre che per il caldo anche per la mancanza di foraggio nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi. E i roghi boschivi, sempre più frequenti, sono un altro effetto collaterale del cambiamento climatico, generato dalle nostre attività che hanno alterato gli equilibri atmosferici con la continua introduzione di anidride carbonica. La crisi idrica colpisce anche la città delle fontane e una recente ordinanza della sindaca Raggi ordina che l'acqua potabile sia destinata esclusivamente agli usi domestici e sanitari, vietandone ogni altro uso. E dopo la seccità sono previste piogge intense e diminuzioni delle temperature e l'arrivo di aria fredda su zone molto calde può creare dei problemi e la protezione civile ha diramato un'allerta gialla in cinque regioni, Veneto, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Toscana.